Buonasera, vi ringrazio per essere intervenuti a questo nuovo webcast offerto da Scheri Academy e l'argomento di questa sera riguarderà la tassazione sul capital gain e in particolare le novità che sono state introdotte ad aprile 2020 sulla capital gain tax nei confronti delle persone che non sono residenti in UK ma posseggono investimenti immobiliari nel paese. Vediamo innanzitutto quella che è la definizione di capital gain tax, si tratta quindi di un'imposta sugli utili da capitale, quindi un'imposta sul profitto che si ottiene quando si vende o si cede un determinato bene o asset. La cessione di un asset include oltre alla vendita ovviamente il trasferimento della titolarità ad altro soggetto sotto forma per esempio di regalia o ancora lo scambio oppure anche l'ottenimento di un risarcimento, ad esempio un pagamento assicurativo se questo asset è andato distrutto o perso. La capital gain tax è dovuta sul guadagno ricavato dai cosiddetti chargeable asset. Cosa sono i chargeable asset? Sono ad esempio i beni personali di valore pari o superiore a 6.000 sterline, ovviamente esclusa la propria autovettura ma rientrano per esempio gioielli, quadri, mobili di valore eccetera. Sono considerati chargeable asset gli immobili ma non quelli adibiti ad abitazione principale, vedremo poi successivamente nello specifico. Sono chargeable asset invece gli immobili adibiti all'abitazione principale, quindi residenza abituale, se si è affittato a terzi parte di essi o per un periodo l'intera abitazione o se è stata parzialmente utilizzata ai fini aziendali o di impresa. O ancora se si tratta di una mansion, quindi una casa molto grande, complessivamente più di 5.000 metri quadrati, compresi anche eventuali pertinenze, giardino eccetera. Sono ancora considerati chargeable asset la vendita di azioni che non fanno parte di un conto AISA, questi conti AISA sono dei conti di risparmio e che il governo esenta da tassazione. Ancora sono chargeable asset i beni aziendali del lavoratore autonomo. Su cosa invece non si paga la capital gain tax? Allora non si paga sui regali fatti al marito, alla moglie, al partner civile o anche le donazioni fatte a organizzazioni benefiche. Non è dovuta la capital gain tax sugli utili maturati appunto su questi conti AISA su questi conti di risparmio che sono esentasse. Ancora non è dovuta sugli utili realizzati dalla vendita di titoli di Stato e anche su scommesse, lotterie, vincite eccetera. Ciascun contribuente ha diritto ad una allowance annuale, ossia una soglia al di sotto della quale non sono dovute imposte da capital gain. Per l'anno 2020-2021 questa soglia è pari a 12.300 sterline per quanto riguarda le persone fisiche e 6.150 sterline per quanto riguarda i trust. Ovviamente la allowance è soggetta a cambiare quindi di anno in anno nella legge finanziaria quindi non è sempre rimasta la stessa negli anni. Questo però cosa significa? Significa che se io ad esempio nell'anno vendo un gioiello, un quadro per un valore e ottengo un guadagno pari o inferiore a 12.300 sterline, io non pagherò alcuna capital gain tax. Diversamente se il mio guadagno fosse superiore pagherei una capital gain tax sulla differenza tra le 12.300 sterline che sono la mia soglia esentasse e quanto effettivamente è ricavato dalla vendita. Veniamo invece a quelle che sono la tassazione, quindi le percentuali della capital gain tax. Ora, queste dipendono da due elementi, anzitutto dal tipo di asset che sto alienando, se si tratta di un immobile residenziale oppure un qualunque altro asset e poi dal reddito complessivo del contribuente. Vediamo adesso nello specifico. Allora, se il contribuente è un basic taxpayer, quindi significa che il suo reddito complessivo, quindi tutti i suoi redditi nell'insieme, non superano le 50.000 sterline, allora se io alieno un qualunque asset e ottengo un utile, su questo la mia capital gain tax sarà pari al 10%. Se l'asset che alieno però è un immobile residenziale, allora la capital gain tax è pari al 18% sull'utile che realizzo. Se io invece sono un higher tax payer, quindi ossia posseggo complessivamente redditi superiori a 50.000 sterline, se io alieno un qualunque asset, la mia capital gain tax sarà pari al 20% dell'utile ottenuto. Se si tratta invece di una proprietà residenziale, allora la capital gain tax sarà pari al 28% sull'utile così ottenuto. Abbiamo detto prima che non sono soggette a capital gain tax le proprietà immobiliari invece per le quali che sono state, diciamo così, residenza abituale del soggetto che le ha possedute. Allora, questa esenzione dalla capital gain tax prende il nome di private resident relief ed è totale, quindi ossia permette di non pagare assolutamente alcuna capital gain tax se vengono soddisfatti alcuni criteri. Come abbiamo detto prima, deve essere stata la residenza principale per tutto il periodo in cui la si è posseduta, non si deve aver affittato parte o la casa a terze persone e non si deve aver utilizzato parte dell'abitazione per scopi commerciali, quindi come se, per esempio, della propria attività o magari se si aveva delle pertinenze, del garage come storage, come magazzino per la propria attività. Inoltre, la casa, compreso l'eventuale terreno, giardino, non deve essere superiore ai 5.000 metri quadrati in totale e l'acquisto, quindi, di questa casa non deve essere stato fatto per ottenere un guadagno immediato, quindi, per esempio, quando si compra un'abitazione, la risistruttura e poi la si rivende per ottenere quindi un guadagno, generalmente nel giro di breve tempo. Quindi, se la casa soddisfa tutte queste caratteristiche, quindi se il bene che ho alienato, la mia abitazione soddisfa tutte queste caratteristiche, io, quando la venderò e realizzerò un utile, un guadagno, non pagherò alcuna capital gain tax. Ovviamente, le coppie sposate e i partner civili possono avere una sola proprietà come casa principale, come residenza principale. Le persone separate o divorziate, ovviamente, ciascuna di loro potrà indicare una residenza differente. Sempre ai fini del Private Resident Relief, quindi, possono non essere presi in considerazione gli ultimi 18 mesi di residenza effettiva nell'abitazione. Quindi, se io sto vendendo una casa che è stata sempre la mia prima casa, quindi sempre la mia residenza abituale, ma magari negli ultimi mesi non ho risieduto perché, ad esempio, ho acquistato un'altra casa più grande e aspettavo di vendere quella precedente, questo può essere il caso, non perdo il Relief totale, quindi non perdo la possibilità di non pagare la capital gain tax sulla vendita di questa casa, perché mi è data la possibilità per gli ultimi 18 mesi di non considerarli nel computo del periodo in cui ho di fatto mantenuto la mia residenza principale nell'abitazione che sto vendendo. Se si tratta di una persona disabile o che al momento è residente in una casa di cura, il periodo passa da 18 a 36 mesi, quindi è un periodo più lungo. Mi ha dato comunque la possibilità di usufruire del Relief fiscale per intero. Cosa succede invece se, per esempio, io questa casa che è stata per molto tempo la mia abitazione principale, però io l'ho affittata, magari perché mi trovavo per un periodo all'estero, oppure l'ho parzialmente affittata perché magari avevo dei coinquilini, o ancora l'ho utilizzata ai fini aziendali perché avevo dibito una parte della casa a ufficio, lo studio. Allora, in questo caso io non avrò ovviamente diritto al Relief per intero, ma non lo perderò neanche totalmente, ma dovrò semplicemente riproporzionarlo, riproporzionarlo in base al periodo in cui effettivamente è stata la mia residenza principale e di nuovo ero nella situazione che abbiamo elencato prima, cioè quella quindi in cui non l'ho affittata, non era utilizzata per scopi commerciali, eccetera. Come si ottiene in questo caso il calcolo? Allora l'utile che avrò ottenuto dalla vendita dovrà essere diminuito del valore che si ottiene moltiplicando tale utile per una frazione, pari al numeratore avrò il periodo in cui l'immobile è stato adibito esclusivamente ad abitazione principale e posso conteggiare anche gli ultimi 18 o 36 mesi a seconda del caso e al denominatore invece avrò il periodo complessivo di possesso della proprietà. Con questa frazione io andrò a riproporzionare l'utile ottenuto dalla vendita e applicherò la capital gain tax semplicemente sul periodo che invece non riguardava l'abitazione quindi come mia abitazione principale, come mia esclusiva residenza. da aprile 2020 ci sono però stati delle cambiamenti, il principale cambiamento riguarda il pagamento della capital gain tax, ossia è stato decisamente diminuito la tempistica entro la quale effettuare il pagamento e trasmettere a HMRC il capital gain return e sono diventati 30 giorni, quindi io sostanzialmente dal momento della vendita o della cessione della proprietà ho 30 giorni di tempo per trasmettere attraverso il servizio real time capital gain tax la mia dichiarazione e pagare HMRC. Questo effettivamente ha inciso significativamente sul contribuente perché prima aveva la possibilità di effettuare la dichiarazione e di pagare la capital gain tax in sede di dichiarazione self assessment quindi generalmente trascorrevano 8 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale ora invece il tempo massimo è di un mese. Altra importante novità sempre a partire da aprile 2020 è che i soggetti non residenti in UK e che realizzano un utile dalla vendita di un bene immobiliare quindi situato ovviamente in Inghilterra saranno soggetti all'imposta britannica della capital gain tax e questo rappresenta un cambiamento fondamentale nel regime esistente e avrà un forte impatto su tutti gli investitori immobiliari esteri compresi i fondi immobiliari. Anche le imprese estere che posseggono immobili in UK in caso di vendita saranno soggette a tassazione dell'utile ovviamente nel loro caso non pagheranno capital gain tax ma pagheranno bensì la corporation tax che al momento è pari al 19%. Vediamo invece ora quali sono le penalità che si possono incorrere nel caso in cui il capital gain return o la capital gain tax non venga pagata entro 30 giorni dall'avvenuta vendita. Per periodi fino a 6 mesi di ritardo viene applicata generalmente una penalità di 100 sterline, per periodi superiori ai 6 mesi verrà applicata un'ulteriore penalità di 300 sterline o il 5% dell'imposta dovuta a seconda di quale delle due due sia maggiore, quindi potrebbe essere anche un importo molto significativo. Per periodi superiori ai 12 mesi viene applicata un'ulteriore penalità di 300 sterline o il 5% dell'imposta secondo ovviamente di quale è la maggiore. Ecco quindi che è importante trasmettere e pagare con sollecitudine l'imposta sul capital gain, purtroppo il periodo è stato decisamente ridimensionato quindi sono passati da, potevano essere anche fino a 12 mesi, a invece soli 30 giorni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.